Il tema del contratto sulla didattica digitale integrata continua ad essere attuale. Dopo aver ribadito di essere nettamente contraria all'ipotesi contrattuale, la Will Scuola, per bocca del suo segretario nazionale Pino Turi, ha chiesto alle altre sigle sindacali di promuovere un referendum fra tutti i lavoratori della scuola. È probabile che l'iniziativa della Will sia anche un tentativo di ricucire lo strappo provocato dalla conclusione della trattativa che ha visto i sindacati del comparto Scuola spaccati a metà. Da un lato i tre firmatari, CGL e Cisl-Anief, dall'altro Will, Snals, Gilda. Ma è più probabile che la proposta di Pino Turi alla fine possa sortire proprio l'effetto posto, irrigidendo ulteriormente le posizioni. Anche la Gilda per parte sua ha deciso di promuovere un sondaggio fra i docenti per conoscere il loro giudizio sull'accordo. Sul contratto si sono espressi in modo decisamente negativo i sindacati di base, CUB, USB e Unicobas in particolare, mentre va segnalata la proposta del gruppo Facebook Scuola Bene Comune di impugnare l'accordo davanti al giudice. I contratti integrativi sostiene infatti il gruppo devono essere previsti espressamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro. L'osservazione è ragionevole, ma c'è il fatto che il contratto firmato da CGL, Cisl-Anief è previsto proprio da una norma di legge dello scorso aprile, di cui peraltro più volte i sindacati hanno chiesto l'applicazione. Ad ogni modo la firma dell'accordo arriva a proposito, perché ormai nelle scuole secondarie di secondo grado la didattica a distanza potrebbe essere la modalità di insegnamento prevalente per le prossime settimane, se non addirittura per i prossimi mesi. Con i problemi che già si erano presentati lo scorso anno, primo fra tutti quello della valutazione degli alunni. L'anno scorso in molti avevano sostenuto che solo l'insegnamento in presenza può giustificare e legittimare la valutazione degli studenti e che con la didattica a distanza diventa pressoché impossibile svolgere verifiche attendibili. Tanto che alla fine il Ministero aveva stabilito che la bocciatura avrebbe dovuto essere riservata a casi del tutto sporadici ed eccezionali. Intanto, in relazione all'estendersi delle zone rosse, la didattica a distanza riguarda ormai anche una quota consistente di classi seconde e terze delle secondarie di primo grado e questo aggrava la vita di tanti giovani studenti e delle loro famiglie. La situazione è complicata dal fatto che ormai alle disposizioni di carattere nazionale si aggiungono e si sovrappongono quelle regionali e quelle dei singoli comuni. Tutto questo sta provocando non poche tensioni non solo fra Stato e regioni ma anche in tutto il sistema delle autonomie locali. Tanto che da più parti si dà ormai per scontato che al più presto bisognerà mettere mano alle disposizioni del titolo quinto della Costituzione per rivedere tutto il problema della ripartizione delle competenze fra Stato, regioni e denti locali. Il tema, come si può immaginare, è molto caldo. Noi continueremo ad occuparcene. Voi continuate a seguirci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Soprattutto continuate a scriverci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come al solito.